Davide, preparati. Oggi il mio oroscopo dice che ho venere in Marte e che mi entra la luna nel segno visto che sono ascendente a riete. Bello. Sei buffo. Come sarebbe che sono buffo? E che sei divertente. Sì, ma buffo come? Pabbiate come parlo? Buffo come? No, 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 chi? No, Tommy, lei forse intendeva dire che... No, 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 aspetta, la ragazza è cresciutella, lo saprà quello che dice, eh? Che dice? Sei buffo, cioè, carino. Sì, ma tu prima hai detto che sono buffo, quindi vuol dire che ci trovi qualcosa di divertente. Forse, forse sono io che non ci arrivo, forse, forse mi sono ringoglionito, ma buffo come? Buffo come un bagliaccio? Tente verto, sono qui per divertirti, eh? No, no, no. E allora buffo come? Tu l'hai detto, lo saprai quello che hai detto, no? Buffo come? Che cosa ci trovi di divertente? Che cosa c'hai da ridere? Che cazzo c'hai da ridere? Buffo come? Vuoi vedere l'altro caffè? Ma sapevo che funziona. Eh, però mi dicono che non funziona, invece funziona. Funziona come? Funziona. Si può sapere che cosa stai grattando da tre ore? Secondo me, a furia di grattare, finirai per trovare il petrolio. Ragazzi, una zampetta? Speriamo non sia un mille piedi, altrimenti la vedo dura. Ma avete mai visto uno che ha vinto con i gratta e vinci? Eh dai, su. Ragazzi, ragazzi, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Tre coniglietti. Tre coniglietti. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Sì, sì, va bene. Fammi controllare. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Sul serio? Già mi vedo. New York City. Oh sì, lo shopping lussuoso sulla Fifth Avenue, le feste chic, il coyote ugly. Sì, abbiamo vinto. Il mondo è uno spettacolo. Io mi darò battaglia. Hollywood arriverò con queste mani. Eh, ragazzi. Io mi rifaccio le tette a due bocce, così, e poi, mal di me, sto arrivando. Spiagge. Abbiamo vinto 5 euro. 5 euro. Quindi calma. Come 5 euro? Eh, guarda. Se trovi tre simboli uguali, vinci ricchi premi. Quindi tre coniglietti, 5 euro. Se trovi quattro coniglietti, vinci un milione di euro. Quindi siamo poveri, come sempre. Oddio. Manu! Manu! Dove sei? Manu! Manu! Ragazzi, però io ne ho un altro. Grattiamo? Scusa, manu. Scusa. Non lo farò mai più. Mai più. Mai più. Mai più. Mai più. Oddio. 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 Oddio, ragazzi. Ragazzi. Ragazzi, ragazzi, abbiamo vinto! Abbiamo cosa? Ma forse, forse ho sbagliato io. Ragazzi, 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 ragazzi. Ragazzi, 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 ragazzi Grazie.